Sono Giacomo Dovetta, professionista di golf, nella lezioncina di oggi farò vedere un paio di colpi dal T di partenza con il drive, uno da posizione frontale e uno da posizione laterale. Vi consiglio sempre, prima di andare sul T di partenza, di fare una prova per consolidare il vostro senso di sicurezza, di feeling giusto prima del colpo. Ho fatto una prova per andare convinti della palla e tirare.